Vieni, torni dopo una lunga assenza, come stai? Come è stato anche tornare a Chieti? Come ti stai ritrovando in mezzo al campo? Sì, è vero, ho avuto un po' di problemi, però sono ritornato, sono contento, non ce l'avevo più a stare a casa. Mi mancavano i ragazzi, mi mancava fare l'allenamento e diciamo è stato un po' come l'aspettavo, mi sono divertito e mi sono anche liberato. Che Campus Italia hai ritrovato? Sicuramente ragazzi cresciuti anche in poco tempo relativamente, cioè due mesi che comunque hanno fatto sì e ci sono stati vari miglioramenti anche dei miei concorrenti, dei miei altri pivot. E questo ti spinge naturalmente adesso? Sì, per forza, dobbiamo ritornare ai punti di inizio. E c'è una partita importante adesso, però cominciamo dalla partita precedente che forse è stata una delle più brutte della stagione con Fasan. Sì, questo è vero, però comunque ci ha dato nuove cose da imparare, ci ha insegnato varie cose e diciamo che non ce la dimenticheremo anche, non ce la dimenticheremo. Che cosa non ha funzionato secondo te? Secondo me la difesa, ma non tecnicamente, proprio perché forse non erano del tutto preparati, però abbiamo dimostrato che comunque non molliamo mai anche con 20 punti di scarto. Adesso Carpi? Carpi è una partita che puntiamo a vincere, sia io che anche tutta la squadra hanno l'ultima antipaglia di vincere, andremo là, combatteremo, butteremo il sangue fino alla fine.